Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Ho parlato nel video dei migliori giochi da acquistare, secondo me, ma perché volevo farci un video a parte? Allora, vi mostro il 2 perché il 2 nel 2019 ha subito un aggiornamento piuttosto importante, cioè è stato aggiunto una cosa che manca a questi giochi, che a tanti potrebbe piacere e altri no, il combattimento a turni. All'inizio della campagna potete iniziare in due modalità, il combattimento classico, quello alla Baldur's Gate, quello in tempo reale con la pausa tattica, oppure il combattimento a turni. La scelta è irreversibile, non potete più cambiarlo, a quanto visto. Il gioco vi farà godere però di più delle abilità dei vostri personaggi, perché imparerete i tempi di casting, imparerete a organizzarvi. Perché vi consiglio questo gioco? Beh, mettiamola sulla classica situazione in cui voi siete appunto a casa mia e io vi faccio vedere il gioco. In sintesi è questo il motivo. Il primo io l'ho finito un annetto fa, ad agosto 2022, mi è piaciuto parecchio. Il 2 ha delle meccaniche un po' diverse. In che senso? Nel primo, ve lo dico per chi non conosce la serie, e magari con 15 euro ve li portate a casa tutti e due. Insomma, nel primo amministrate una casa, una fortezza, quindi potete costruire le mura, gli edifici. Nel 2 avete la nave. La nave con l'equipaggiamento, l'equipaggio e le scorte. Le scorte vengono viste qua in alto, insomma, come vedete qua ho quasi finito il vino. Il vino non diminuisce né aumenta il morale, però meglio di niente. Se io andassi a mettere l'acqua, l'acqua diminuisce il morale, perché ovviamente là dei pirati, insomma, dei naviganti vogliono bere. Quindi io posso aggiungere questo, vedete che sale a 7, ma se aggiungessi anche l'acqua andrei a 241, ma perderei il morale. La frutta fa aumentare il morale di 1, gli altri bene o male 0. Quindi potrei andare in deficit, una volta finito l'alcol, di morale. E quando il morale raggiunge lo 0 parte una sezione, e ce ne sono parecchie qua nel gioco, dove potete svolgere delle azioni in stile libro game. Quindi con le scelte multiple, affidando a ognuno, piuttosto uno o più, personaggi le azioni da compiere, anche in base alle loro abilità. In questo caso, beh, possiamo andare a vedere che lui ha, ad esempio, questo è un personaggio che c'è anche nel primo capitolo, Atletismo, quindi ho dovuto far calare lui in un pozzo e ho usato lui perché aveva Atletismo 8 e gli altri non ce l'hanno. Insomma, ne hanno meno, se ne hanno lei, ne ha due, uno. E questo invece è un personaggio sempre del primo capitolo a 6, però ho scelto lui. Avete un sacco di incantesimi, di abilità e le reputazioni. Ci sono tante fazioni per cui possiamo fare missioni, contro cui possiamo opporci. Magari fare il doppio gioco e, allo stesso modo, i personaggi che vi portate con voi hanno dei rapporti con gli altri personaggi e hanno delle cose che amano e non amano. Questo, in sintesi, è quello che è il gioco. Possiamo andare a vedere tutti gli archivi di ogni personaggio, quello che hanno fatto, i nemici che hanno sconfitto. Vedete che alcuni è zero perché non hanno ancora sconfitto nessuno. E il tempo di viaggio, tutto quello che hanno fatto insieme a noi. Ma perché? A chi consiglio questo gioco? Perché ve lo consiglio? Beh, allora, io intanto salvo la partita. Vi voglio far vedere come funziona la meccanica del combattimento. Adesso ovviamente qui abbiamo una delle scene che vede il nostro protagonista perché il gioco è fortemente orientato su divinità, eventi sovrannaturali, anime, defunti. Insomma, non è puramente guerra fondaio. Insomma, ci sono delle cose che il nostro protagonista può vedere. Succedeva già, succede tantissimo nel primo capitolo. Ma voglio farvi vedere, prima di tutto, il combattimento turni. Poi vi faccio vedere rapidamente la navigazione e poi vi faccio vedere una delle componenti, diciamo, di tipo fantasy, gioco di ruolo, che potreste gradire molto se siete come me. Intanto vedete che qua parte il combattimento. Il combattimento è determinato dall'iniziativa. Vedete che abbiamo il movimento che a un certo punto diventa rosso perché poi finiscono i punti di movimento. C'è un'azione da poter compiere più il movimento. E si possono alternare le cose. Questo volatile riesce a raggiungere questo e attaccare. E vedete che gli ha fatto danno. Ora passo il turno, tocca a Xoti. Xoti ha un'abilità che è questa. Vedete che può fare danno. Io la mando qui e gli fa danno. Ok. A questo punto posso ancora muoverla perché ho 7 metri, e quindi magari la metto in sicurezza. Ora attaccano questi, che sono i morbi della sabbia. Vedete che intanto stanno facendo bersaglio del pet della ranger. Intanto io, vedete, io adesso voglio lanciare la lancia necrotica. Non la lancia necrotica. No, sì, lanciamo la lancia necrotica. Vedete che qua mi dice tipo d'azione di lancio. Altre azioni invece sono di tipo normale. cioè vengono istantaneamente. Io lancio la lancia necrotica su questo nemico. Su questo. L'azione carica. Ed è quello che succedeva nello stile di combattimento in tempo reale. Cioè vedevate uno che continuava con una barra di caricamento sopra. Adesso invece qua vedete che alla fine lui passa il turno perché fa questo. paligina attacca, attacca Eder e poi si attiverà la lancia necrotica. Io ora ho lei. Il combattimento a turni vi obbliga a comprendere tutti gli incantesimi e le abilità che i personaggi prendono. Ed è una cosa che nell'uno si perde molto. Ed è, può fare questo attacco qui in cui manda a terra un morbo della sabbia che nemmeno funziona. Vedete che è tutto molto, secondo me, molto più chiaro. Ora il turno della lancia necrotica che fa una maia di danno, credo, sì. Ora maia può attaccare da distanza. La faccio attaccare con questo. Vediamo se riesce ad abbatterlo. Molto bene. Passa il turno. Indy tocca di nuovo. Lui facciamo un incantesimo questa volta istantaneo. Passo il turno perché non ha senso che si muova. Anche se potrei farlo avvicinare un filo per usare l'incantesimo magari a cono. Tipo la palla di fuoco. Sotti di nuovo ha, comunque ho questa abilità, gliela faccio usare ancora. Per quanto ogni abilità ha delle, diciamo, degli attributi che vanno a incontrare degli attributi di difesa del nemico. E quindi dovete imparare a gestire quelli. Ok, vedete che il combattimento si finisce qui all'allentatore. E poi si va a lutare e si continua premendo tab. Vedete gli oggetti interagibili. Comunque io faccio un save rapido. E vi faccio vedere adesso un'altra cosa. Vi faccio vedere come funziona. Cioè la cosa bella della navigazione e la cosa bella dell'ambientazione. Perché se amate quei tipi di giochi di ruolo o di stile occidentale, questo è un gioco che non dovete assolutamente farvi sfuggire. Ora, non saprei... Non saprei da dove partire. Però vi voglio far vedere... Qui è proprio inizio inizio, quindi devo fare attenzione a dove carico. Intanto, vabbè, ho salvato lì, quindi è l'unico modo, perché sennò dovrei farvi una live di tre ore per mostrarvi tutto. Quindi saltelliamo e vediamo le varie cose. La navigazione, vedete, questa è la modalità. Noi eravamo qua. Ci possiamo muovere su ogni isola, interagire su alcune isole. Ci sono delle grosse città, su altre no. Ed è la cosa che vi faccio vedere adesso. Perché vedete, noi adesso stiamo navigando, però vedete che l'acqua sta per finire. Quindi l'azione che ho fatto prima è quella di trasferire l'acqua qui, il vino qui. E vedete che sale nuovamente. Abbiamo un membro della ciurma ferita. Infatti, all'interno della nave, ne ho messo uno in cura. Con il chirurgo novellino, che poi livellano, livellano tanto, facendo eventi in mare. Eventi che possono essere abbordaggi di navi. Questa è la mappa. Infatti adesso dobbiamo andare qua. Perché vi voglio far vedere questa bellissima città. E dobbiamo fare attenzione perché in mare, ok, possiamo subire degli abbordaggi. E gli abbordaggi avvengono per quanto riguarda il combattimento navale in stile libro game, quindi con delle scelte multiple. Nel caso di abbordaggio, come combattimento classico. Vedete qua c'è un'altra isola. Dove qui potete acquistare rifornimenti per la nave. Rifornimenti che sono questi. Ma anche medicinali, palle di cannone e materiali per la riparazione. E quelli sono delle risorse a parte. Cioè c'è un menu a parte da cui li ricaricate spendendo soldi. Tra l'altro potete anche comprarvi delle navi che costano anche centinaia di migliaia di monete d'oro. Quindi, insomma, di cose ce ne sono. Diamo un'occhiata. Sono navi commerciali, quindi al momento non rischiamo nulla. Stiamo andando. Il mondo è veramente enorme. E tra l'altro ci sono ambientazioni appunto molto carine, molto caratteristiche. Vedete? Con nomi epici, cosa che a me piace molto. Ma la cosa bella, vedete qua, intanto scende sale o scende il morale in base a cosa mangiano. E consumiamo anche materiali di riparazione. Oh, sei vagato. In qualsiasi momento, premendo qui, possiamo andare sul ponte della nostra nave e vedere e parlare con la ciurma, come si faceva nel primo capitolo, nella fortezza. Sono belli tutti e due i titoli, il primo e il secondo, con cose diverse. Se vi piace, voglio dire, a me piaceva di più gestire e costruire la fortezza, con le varie case, le varie stazioni, insomma, di uno che produceva una cosa. Qua c'è la nave, ma è bella anch'essa, non ho niente da dire. Anche perché si potenzia tanto, se ne comprano di nuove, si diventa più forti a livello marittimo, quindi insomma è carino. E qua è, appunto, c'è la possibilità di parlare. Ad esempio questo gigante qui, io mi ricordo benissimo dove l'ho reclutato e adesso ve lo farò vedere. Però so chi è, so cosa faceva, l'ho portato via da una situazione lavorativa che non gli piaceva più di tanto. La cosa bellissima, e qua concludiamo questo percorso, diciamo, in questo gioco, è questo. Vedete questa città che è molto interessante perché è costruita un po' alla Minas Tirith, insomma. Guardate che bella. Cioè voi potete andare ed esplorare, passando grazie ai passaggi, diciamo, le zone di passaggio, alle varie parti della città. Questa è la zona più malfamata. Poi vivendoci in città imparerete che questa è la zona più malfamata. Insomma abbiamo anche avuto un tentativo di rapina qui. Me la sto giocando tanto sulla diplomazia, infatti tante volte me la cavo senza neanche combattere. Qui sotto ho scoperto che c'è una faida tra due famiglie facoltose. Qua c'è la sede di una corporazione. Qua c'è la sede di un'altra corporazione. Qua c'è il sovrano della città. Ma qui non ci ho passato tanto tempo e qui invece non ci sono mai stato. E in pratica qua possiamo andare a muoverci a piedi, insomma. Possiamo andare a comprare i rifornimenti per la nave. Possiamo anche ricaricare appunto le provviste. Quindi in questo caso andiamo a ricaricare quelle che mancano, medicinali. E costano un botto, costano un botto davvero. Però possiamo andare a vendere l'equipaggiamento che non usiamo in modo da poter, diciamo, bilanciare le spese, insomma. Poi dopo un po' si inizierà a fare parecchi soldi. Almeno nell'uno io avevo tanto equipaggiamento, quindi me la cavavo così, insomma. I rifornimenti, vedete che potete anche andare a comprare varie navi. C'è la nave della giunca, da 120. Possiamo andare a vedere le statistiche di questa nave. Possiamo andare a reclutare membri dell'equipaggio. Ed è diverso dagli avventurieri che portiamo con noi, perché in alcuni porti, nelle taverne, potete aggiungere membri all'equipaggio, al gruppo di gioco di ruolo, insomma, dove si combatte. Questi invece sono elementi che ci chiedono una paga quotidiana, una razione di cibo o d'acqua o più, dipende un po' dalla mole. E le loro abilità, che cosa sanno fare, perché poi noi possiamo andare ad assegnare sulla nostra nave i vari ruoli. Quindi possiamo assegnare, vabbè, questi sono i cannoni, ne abbiamo solo due. Il cannoniere, ne abbiamo due, ma in realtà abbiamo due cannoni soli, quindi dovrei metterne uno per lato, in modo da rendere gli attivi tutti e due, far fare esperienza a tutti e due. Abbiamo i mozzi, che ne abbiamo uno solo. Questo è uno che mi dà abbastanza grattacapi. Anche questo, Beodul. E poi, sotto, abbiamo Birta, che è il cuoco. E abbiamo Irena, che è il chirurgo. E qua è guarita. Questo mozzo navigato, che è molto bravo a fare il mozzo, ma potrei usarlo anche per il chirurgo, no? È guarita, quindi la rimetto al suo posto. E ovviamente, la cosa che mi piace molto, appunto, sono queste cose qui, che mi fanno veramente impazzire. Queste ambientazioni fantasy da esplorare, da scoprire, senza che nessuno ci metta a fretta. Qua ce n'è un'altra, che è Porto Maglie. Non la rende giustizia, perché è un porto veramente enorme. È diviso in due parti, più un villaggio esterno. Quindi, vedete che è molto interessante. E qui, gran parte di quest'isola non l'ho esplorata. Quindi io potrei attaccare lì e andare. E qua so che c'è una zona che è di due livelli superiori al mio, quindi potrei tornarci dopo. Calcolate questo ragionamento per tutta la mappa, insomma. Il gioco viene venduto circa 10 euro il 2 e 6 euro il primo. Meritano entrambi. Se volete un gioco di ruolo, avete già spolpato tutto quello che potevate spolpare a livello di gioco di ruolo. Ovviamente, vi ho fatto vedere il combattimento con la pausa tattica, scusate, con il combattimento a turni. Potete anche combattere e iniziare l'avventura col combattimento classico in tempo reale. Ma secondo me, così, ok, dovete amare i combattimenti, la strategia, il volere migliorarvi sempre di più sia a livello di strategia che di equipaggiamento. Vi prolungherà il gioco, se non raddoppiarlo a livello di ore, se ci vogliono magari 40 ore per finirlo correndo e basta, ce ne metterete 80, non lo so. Però il gioco assolutamente merita, perché comunque ha una serie di chicche narrative veramente che meritano. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo titolo e alla prossima. Ciao ciao!